Il primo piano La facciamo? La facciamo, dici? Sì Sù, torri, mettianti davanti Bravo, su Bravo esattamente Questa posizione Top le spalle Viada più che del 90 shank Se� dobbiamo fare un tandem insieme il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, sì, sì. è che ce l'avevo fatta dai dai un 5 ciao